Nuova puntata di Avvocati rispondono, nuove domande e nuove risposte. In redazione sono arrivate numerose domande per i nostri esperti. Partiamo con Edoardo, che si trova in disaccordo con quanto deliberato dall'Assemblea del condominio e non sa come far valere il suo pensiero. Sentiamo ora cosa ci dice l'Avvocato Bortolotti. In questa occasione parliamo di quelle eventualità molto frequenti che capitano nella nostra vita di condominio e che sono state oggetto di molte richieste giunte in redazione, che riguardano quelle sere nelle quali ce ne torniamo a casa dall'Assemblea di condominio e siamo arrabbiati perché è stata presa una decisione che non ci va assolutamente giù e che riteniamo essere assolutamente lesiva dei nostri interessi. Bene, che cosa fare nel concreto? Bisogna ricordare che la legge individua delle procedure perentorie, inderogabili, per provare a porre rimedio, se si può, a questa situazione e quindi dobbiamo avere ben chiaro alcuni punti importanti. Il primo punto è senz'altro che dal giorno in cui noi abbiamo assistito all'Assemblea, abbiamo votato in maniera contraria o ci siamo anche astenuti, abbiamo 30 giorni, 30 giorni, non uno di più, per poter proporre il primo procedimento di impugnazione che è quello, individuato da una riforma abbastanza recente, della mediazione. Quando, se mai, dovesse fallire il procedimento di mediazione, tra un attimo spiegheremo di che si tratta, allora soltanto in quel caso potremmo adire il Tribunale per invocare il nostro buon diritto. La mediazione, che cos'è la mediazione? La mediazione è un procedimento attraverso il quale noi chiamiamo ad una soluzione, si spera, bonaria, il condominio attraverso la convocazione dell'amministratore, per cercare di far sì che venga rivista, secondo quelli che sono i nostri buoni diritti, se esistono, la delibera e il merito della delibera che è stata appena assunta. Questo fa sì che si richiami un aspetto fondamentale della vicenda, cioè non è che possiamo impugnare e contestare tutte le decisioni condominiali che non ci vanno bene. Le delibere condominiali impugnabili e se mai annullabili o nulle sono soltanto quelle che sono manifestamente contrarie alla legge, in particolare al diritto condominiale, e al regolamento di condominio. Quindi bisognerà esaminare con l'aiuto di un mediatore, che in genere è un avvocato, presso alcuni istituti previsti e precisi per questo procedimento, se è possibile trovare una soluzione che coinvolga tutto il condominio. Diversamente, se non saremo soddisfatti, non si troverà una soluzione, potremo andare di fronte al tribunale. Ricordandoci però che, qualora noi andassimo a chiedere il rispetto del nostro diritto al giudice, sarà onere del condomino, quindi del proprietario singolo, dimostrare, o di più proprietari, perché è un'azione che si può fare anche in via plurale, dimostrare che la delibera effettivamente lede i nostri diritti garantiti tanto dalla legge quanto dal regolamento di condominio. Quindi, per riassumere, cosa bisogna fare? Nel momento in cui ci si rende conto che il nostro diritto è, diciamo, in pericolo, o è leso, dobbiamo recarci da un legale, perché si tratta di una materia molto, molto tecnica, che ci agevolerà, ci aiuterà a chiedere il procedimento di mediazione, ci assisterà nel procedimento di mediazione e nel caso ci consiglierà se procedere o meno poi con l'impugnazione in tribunale. Un'ultima notazione che va ricordata assolutamente è che la nostra delibera, chiamiamola indigesta, non sospenderà i propri effetti che sono immediati una volta che l'Assemblea la approva, se non presenteremo un'apposita istanza di sospensione urgente avanti al tribunale. Questa è un'attività che va fatta unitamente al ricorso in tribunale per fare in sì che la delibera, se noi temiamo di avere dei danni immediati dalla delibera stessa, possa essere sospesa e perda subito efficacia. E ora cambiamo argomento. Cristina ha terminato il suo rapporto di lavoro e vuole sapere entro quanto tempo il suo datore le dovrà pagare le sue aspettanze. Sentiamo cosa ci spiega allora l'Avvocato Pollastro. Buongiorno a tutti. Rispondendo a questa domanda, quanto tempo deve aspettare il lavoratore per una volta che è terminato il suo rapporto di lavoro per avere il proprio trattamento di fine rapporto, la propria indennità, una volta era l'indennità di liquidazione, oggi è il trattamento, si chiama trattamento di fine rapporto. E quanto tempo deve avere per avere le cosiddette competenze di chiusura. Che cosa sono le competenze di chiusura? Ma lo sanno tutti, quando uno lavora, a un certo punto termina il rapporto di lavoro per motivi più diversi, non sto parlando a questo punto di licenziamento, di missione e quant'altro, ma oggi siamo a ottobre, è chiaro che ci sono maturati in quest'anno dieci ratei di tredicesima del 2017 e quindi che verrebbero, se fosse il rapporto di lavoro, fosse proseguito regolarmente, sarebbero stati pagati a dicembre, invece vengono pagati in occasione del termine del rapporto di lavoro, ma potrebbero esserci dei giorni di ferie non goduti, dei permessi di riduzione oraria non goduti e a questo punto, in occasione del termine del rapporto di lavoro, vengono pagate queste competenze. Quanto tempo ha il datore di lavoro? Qui, come fanno a volte gli avvocati, la risposta è dipende, che è una risposta, come dire, curiosa, perché la logica è che ci sarà un termine, paradossalmente il termine è in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, cioè, voglio dire, termina il rapporto di lavoro oggi, il giorno dopo il lavoratore dovrebbe avere i suoi soldi. Si sono però creati nel corso del tempo una consuetudine, una consuetudine in effetti mai realmente regolata da norme, da leggi, qualche contratto fa riferimento a questi caratteri temporali. E quali sono? Le competenze, cioè i rati di tredicesima, le ferie non godute e quant'altro, vengono, l'indenità di preavviso venga erogata al termine del normale periodo di paga, di solito è la fine del mese, per cui siamo alla metà del mese di ottobre, cessa il rapporto di lavoro oggi, domani, a regola alla fine del mese. Con il normale listino retributivo, tanto per intenderlo. Per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto, che in molte situazioni è una somma anche particolarmente corposa per il datore di lavoro, si è creata una consuetudine, una consuetudine che è due mesi o, se vogliamo, il successivo periodo di paga. Nel senso che il datore di lavoro è, come dire, c'è una forma di tolleranza di un paio di mesi nel pagare il trattamento di fine rapporto, che ha una logica questi due mesi, perché per elaborare il trattamento di fine rapporto con precisione, si tiene conto del dato dell'Istat di rivalutazione di inflazione che c'è stato nel frattempo. E quindi, affinché il datore di lavoro possa correttamente, o gli uffici commerciali, amministrativi del datore di lavoro, calcolare esattamente quello che è il trattamento di fine rapporto, occorre il dato dell'Istat che viene pubblicato all'inizio del mese successivo e quindi si dice al secondo periodo di paga. Insomma, in buona sostanza, sostanzialmente, poi si è creato questo, qualcuno chiama Gentroman e Grimer, questo accordo uno scritto che, attenzione, non è obbligatorio da nessuna parte, ma che induce un po' in generale a dire il trattamento di fine rapporto venga pagato dopo al successivo periodo di paga, diciamo dopo due mesi. Che cosa succede se il datore di lavoro non paga? Il consiglio che do io, allora, è sicuramente una situazione di tolleranza, nel senso di dire aspettare questi due mesi, dopodiché fare una richiesta formale, una richiesta scritta, una richiesta quindi ufficiale in cui il lavoratore insiste nel dire attenzione, c'è il mio pagamento del trattamento di fine rapporto, chiede formalmente che venga pagato in tempi rapidi, perché se non c'è nessuna reazione da parte del datore di lavoro, se il datore di lavoro magari per vari motivi non ha nessuna intenzione o non è nelle condizioni di proghere e pagare il trattamento di fine rapporto, il consiglio è quello di attivarsi rapidamente attraverso un patronato, un sindacato o personalmente tramite un avvocato per creare delle condizioni di cautela in qualche modo fare in fretta, perché se il datore di lavoro è in difficoltà o addirittura ha un passo da una situazione di insolvenza, purtroppo la necessità di poter recuperare rapidamente i propri crediti diventa, il tempo diventa fondamentale, perché si rischia poi di arrivare quando qualcuno direbbe i buoi sono ormai scappati e quindi bisogna come dire fare in fretta prima che succedano disastri che coinvolgono anche i soldi, i propri soldi. Grazie. Con oggi abbiamo terminato. Se avete domande scriveteci. Avvocati rispondono chiocciolai.comizio.it Ci rivediamo martedì prossimo alla stessa ora. Grazie. 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 Grazie.